Presidente Sapa, oggi una giornata importante per l'Università di Imperia, si approva il bilancio e si avvia la costituzione della fondazione. I 14 soci della società di promozione per l'Università di Imperia oggi esamineranno il bilancio e lo approveranno un bilancio positivo, un bilancio che si chiude con un utile, ma non è quello il punto, fondamentale è l'appostamento di fondi per finanziare il passaggio successivo alla fondazione, che è l'atto sul quale puntiamo per dare un impulso a questa Università. La fondazione è strumento che ormai adottano quasi tutte le Università, è uno strumento più snello, più agile, che consente agli enti fondatori, che sono sempre i 14 soci di comune, più la provincia, compresa la provincia, di finanziare e nello stesso tempo di attrarre nuovi soci finanziatori. Io penso che l'Università con la fondazione debba accelerare il passo per il cambiamento. Accanto alle facoltà, alla facoltà di giurisprudenza e di economia, con i corsi che ci sono attualmente, bisogna aprire verso nuovi settori. I nuovi settori non possono che essere le scienze elementari e tutto il comparto del turismo. Nello stesso tempo bisogna prestare particolare attenzione agli istituti tecnologici superiori, le academy, che sono i corsi triennale post-diploma da avviare di concerto con gli istituti tecnici.